Oggi siamo in partenza. Siamo in partenza ragazzi. Ci sono state un po' di notizie all'ultima ora e l'Unione Europea pensa di voler bloccare tutti i voli extracomunitari per un po' di tempo. Noi stavamo a Dubai, ci hanno cancellato il volo e eravamo indecisi su rientrare o meno e ora ce l'hanno cancellato quindi non possiamo rientrare. Quindi io e Sammy siamo tra virgolette obbligati di stare a Dubai per un pochino più di tempo che da un lato è un pochino divertente perché siamo venuti qua per dire stiamo in vacanza, andiamo in palestra e ora siamo bloccati qua e quindi cambia un attimo. Ora cambiamo appartamento, andremo in un posto ancora più sulla spiaggia, piano piano stanno chiedendo tutto qua a Dubai. E noi intanto cercheremo dei voli o per tornare o per andare in un'altra location un po' meno costosa perché Dubai costa. E diciamo che avevo budgetato un pochino ma avevo budget per due settimane ora che siamo obbligati a stare qua più tempo. Dobbiamo stare un attimo più attenti. Se vi piace l'onestà lasciate un like e fatemi sapere nei commenti. Spero stiate tutti bene a casa. Vai bro, dobbiamo andare a Steph a vedere le braccia grosse. Sì, ti dico. Let's go. Yalla, figliissimo mi dicono Yalla. Sì, ti dico. Sì, ti dico. Sì, ti dico. 5 minuti, finiamo la spiaggia. Grazie, signor. Però dobbiamo vedere come attraversare perché c'è una stradona. Sì, ecco. Che stiamo aspettando? Adesso stiamo aspettando che ci danno l'appartamento e le cani interi. È un po' complicato che fanno quelle cose. Non l'ho mai visto così. Sì, non si è capito. Eh? Non si è capito. Non si è capito. Eh no, è un po' strano. Ok, è un consierge. Quindi tu arrivi e dici che hai una stanza, però non è un hotel. Quindi loro dicono, ok, aspetta, con chi è che hai preso la stanza? Dobbiamo chiamare il proprietario. E quindi non capisco perché io parlo col proprietario, però poi lui mi dice di andare da loro. Però poi sono loro che devono parlare col proprietario per accettarci. È tipo, what? Bro, aspettiamo 5-10 minuti. Aspettiamo. No, non c'è fretta. No, non c'è fretta. Sì, siamo nel nuovo appartamento. Sì, perfetto. Sì, perfetto. Grazie. Sì, perfetto. Sì, perfetto. Sì, perfetto. Sì. Sì. C'è praticamente la master bedroom dove starò io. E c'è una bella vista, devo dire. Cioè, non so se siete riusciti a vedere. Si vede? Si vede, si vede. Cioè, praticamente ci stanno i grattacieli e poi c'è subito il mare lì in fondo. Siamo sempre più o meno sulla spiaggia perché è l'unico posto che non chiuderà, no? Quindi almeno nel frattempo. Poi ti lascia un bagno, ma fai proprio un mattino. È un bagno normale. Sì. E poi forse di qua è la zona più carina. C'è un open space per la cucina. Quindi possiamo cucinare un pochino là, mangiare qua, fare un po' di lavoro qua. Che mi piace. Cioè, mi piace il fatto che ci sarà uno spazio per lavorare. Sì. Qua è dove ci sarà Sammy che dorme lì. Un letto, tv. E poi secondo me questa è la parte figa che magari di mattina io e Sammy ci possiamo fare un bel caffettino sul terrazzo. Sì. Con una vista praticamente spettacolare della marina. E no, è bellissimo. E come detto, apprezzo un sacco che posso fare queste cose che posso permettermi di stare a Dubai. Però, come detto, questa è un po' una cosa forzata. Quindi dobbiamo stare belli attenti col budget. Ma già io e Sammy c'è la cosa buona è che sto a dieta, quindi non stiamo scendo a mangiare. Sì. E quindi non stiamo spendendo niente, anche se ci sono un sacco di ristoranti. Stiamo attenti e staremo ancora attenti con i soldi. Sì. E poi dobbiamo trovare una soluzione, come detto. Perché non possiamo stare qua indefinitely. Indefinitivamente. Io ce l'ho fame, Sammy. Sì, anch'io. Andiamo a mangiare. Io oggi sono a digiuno. Da un po', eh? Non mangi. Sì, è mezzogiorno e dieci. Io sono a digiuno. Mi sono solo fatto un caffè stamattina. E che ci mangiamo? Beh, c'è stato un supermercato sotto. Dobbiamo cercare un pochino cosa c'è qua sotto, qua in giro e vi teniamo aggiornati. Un pochino. Un pochino. Si vede, no? Ma zì, che hai trovato? C'è un Mars bar con 20 grammi di proteine. Ragazzi siamo andati in quel supermercato e io mi sono preso frutta e verdura perché è importantissimo per la mia definizione. Così che ho dei piccoli snack, tanto volume e poca densità calorica. Come vedete qua. E guardate che bella la tua manina dietro di me. Veramente stupello. Un grattacieli sul mare. Si vede, sì. Ragazzi, in tempi come questi, ti devi portare il peso appresso. Dedicati, eh? Dedicati, sì. Guardate i ragazzi che bello. Sembra un po' tipo Hollywood. San Francisco, quella via di San Francisco con le macchine. Non so se hai presente. Noi scendono. E qua abbiamo il McDonald's più chic e elegante al mondo, credo. È picchissimo, ma è una biblioteca qua. Si, veramente. Ragazzi, siamo venuti qua da McDonald's per mangiare che costa poco. E in realtà abbiamo trovato un sandwich che si chiama Macaracca. Che non so se l'ho già mostrato su YouTube. Sicuro su Instagram l'ho mostrato. Non so che non si, YouTube, no. Si, se vi seguite là avete capito. Praticamente è come se fosse un wrap. E ci ho tolto cipolla, ci ho tolto la salsa e ci ho messo doppio pollo. Sembra di farglielo vedere un pochino. Se riesci. È come se fosse, vedete, un wrap con una piadina. Del pollo grigliato qua dentro. Pomodoro, un po' di lattuga. E ci ho messo anche una sottiletta. E quindi, anche da me, metto calorie macroezi sullo schermo adesso. Non è manco troppo male. Poi c'ho la solita, proprio con la zero. E probabilmente mi mangio anche metà di questo baratto di frutta e metà di queste carote. Ti dico, buon appetito. Grazie a tutti. Vedete che abbiamo convertito anche il Sammy che si sta facendo pure lui in ma che rabbia. È buono. Mi fa. Andiamo a Starbucks a fare un po' di lavoro. Io mi pio un ice coffee che ne ho proprio bisogno. Così che mi metto a lavorare un pochino. Magari di cap, che ne hai perso. No. No, no, no. Un cap. Ragazzi, benvenuti in un altro voice over che, come sapete, è la parte che mi piace di più del video, featuring le mie gambine da finicottero. Cazzo, che ci posso fare? Stavo pure allenando bene le gambe a Barcellona. Facevo gli squat, leg, breast leg extension, leg curl. Come sapete, io ho iniziato tardi ad allenarle per bene e quindi stanno un po' indietro rispetto al resto del corpo. Qua si vede bene. Però, purtroppo, a casa allenare le gambe è difficile. Comunque, abbiamo iniziato anche noi con i home workout, come avete visto nell'ultimo video, dato che ci hanno chiuso le palestre. Questa qua era una seduta. Poi, pensavo di fare proprio un video completo in cui vi spiego esattamente quello che voglio fare e quello che vi consiglio di fare. Quindi, fatemi sapere se lo volete lasciandoci un commento. Intanto, questa era la seduta spalle e tricipiti. Per quello, vedete che sto facendo, tipo, delle variazioni, diciamo, di flessioni abbastanza particolari. Quindi, quello era... Ho fatto, ovviamente, un superset tra tricipiti e un pike press per le spalle e poi, invece, qua mi vedete fare un bench dips. Praticamente, le dips, sapete, come si fanno praticamente alle parallele. Però, non essendoci le parallele, lo potete fare su qualsiasi tavolo o sedia o... Ovviamente qua lo sto facendo sul letto, no? E questo anche per i tricipiti. La cosa fondamentale dell'allenamento a casa, ragazzi, è che dovete portare ogni serie molto molto vicino al cedimento e pure oltre il cedimento, ok? Proprio perché non abbiamo quel sovraccarico progressivo che riusciamo a raggiungere con il carico, con i pesi. E come avete visto proprio là, appunto, ho fatto prima i bench dips con le gambe abbastanza allungate e poi vengo piano piano più vicino così è più semplice. Qua vedete... Dai, dai! Non troppo male, secondo me. Non troppo male. Le spalle è una di quelle cose che si possono spaccare anche a casa. Basta che avete un borsone, lo riempite di roba, bottiglie d'acqua e altro. Potete comunque mantenere qualcosina. Dai! In questa clip non mi vedo esageratamente male. Speriamo di riuscire a continuare e mantenere tutto questo anche senza la palestra. Ma io sono fiducioso. Come detto, se volete vedere video completo su allenamento, su come fare io per mantenere tutta la massa muscolare e quello che farò anche adesso che sono in definizione per farlo, fatemi sapere giù nei commenti. Io vi ringrazio un sacco e apprezzo un sacco se siete arrivati fino a questo punto. Lasciateci un like, ci mettete due secondi. Apprezzo tantissimo e godetevi il resto del video. Raga, non è il massimo. Facciamo quello che si può in casa con quello che si ha. L'importante è spingerci al cedimento per mantenere la massa muscolare. Ragazzi abbiamo preso anche il semi. Stimolato. Grande. Andaglie così. Andaglie così. Stiamo? Ragazzi. Aspetta, secondo solo. Come facciamo, come facciamo. Allora. Ma così siamo un cattino. Fa meglio? Aspetta, prendo il pulpo. Allora, benvenuti alla clip finale di questo video Praticamente quello che vi ho fatto vedere finora era un vlog filmato tre giorni fa Invece adesso vi parlo dal presente, quindi sono passati tre giorni E voglio rispondere al titolo, che era la mia decisione Decisione su cosa? Se voi avete visto due video fa, ho parlato che non ero sicuro di voler continuare la definizione sceltica Mi avete inondato i messaggi, mi avete mostrato un sacco di post supporti Su questo veramente sono grato che non avete idea Cioè, è bellissimo, non so nemmeno come sono arrivato a questo punto dove c'ho così tanta gente Che seguo quello che faccio durante il giorno e per me è assolutamente incredibile E io non sarei qua in questa posizione senza di voi Quindi vi tengo sempre a dirvelo, ve lo dico sempre, ma è la verità Ieri ero, diciamo, un pochino triste, ok? E quando sono triste ho imparato, anche perché i miei studiano un sacco psicologia Fanno Jung e queste cose qua Ho imparato a scrivermi giù le cose È un esercizio che si chiama ad esempio journaling E ieri non riuscivo veramente a capire che cos'è che non andava così bene Mi sentivo un pochino vuoto Allora mi sono scritto giù un messaggio sulle note del telefono ieri Per praticamente descrivere come mi sentivo Vediamo se la trovo Come mai? Non la trovo Non vorrei che l'ho cancellato ragazzi Ah ecco Allora ieri ovviamente lo scrivo come se fosse il mio diario Ok? E vi invito a farlo ma dopo ve ne parlerò meglio Praticamente ho scritto come mi sentivo Non so se lo metto sullo schermo oppure no Perché comunque è molto personale, molto intimo Però io mi cito di voi, voi mi citate di me E quindi alla fine siamo come amici E quindi voglio che sia molto aperta la relazione Ma praticamente dovevo decidere un corso di azione da fare Perché mi sentivo un po' vuoto Mi sentivo che avevo perso la motivazione Che il fatto che ci hanno chiuso la palestra Per alcuni può essere poco Cioè è un problema minimo Ma per me è il mio lavoro, è la mia passione Amo farlo Io mi sveglio ogni giorno Che non vedo l'ora di allenarvi Lo sapete se mi seguite Ma alla fine c'è un canale di fitness anche per questo Però mi sentivo vuoto Mi sentivo un attimino che non riuscivo bene a focalizzarmi Avevo un lavoro da fare Ma procrastinavo E non mi sentivo al massimo Allora mi sono scritto giù appunto come mi sentivo E mi sono detto Devo decidere quello che voglio fare E devo far vedere Hai ci rimesso il primo? Ok E devo far vedere e dire a voi quello che voglio fare E poi continuare su quel percorso Quindi io ho deciso una cosa Ho deciso che In questo periodo abbiamo tutti bisogno di qualcuno che ci sta più vicino Giusto? Qual è la cosa che ci distrugge? Il fatto che dobbiamo essere isolati in casa Ma io voglio che questa community Come voi siete verso di me Cioè pensate Se voi tutti mi seguite Vuol dire che tutti noi siamo abbastanza simili come persone, come mentalità E che c'è un sacco di voi che magari commentando qua sotto In realtà siete in posizioni molto simili E magari ci sono gli amici che potreste fare qua sotto Quindi io voglio iniziare una cosa Voglio iniziare un challenge Che non è veramente challenge L'ho chiamato Mav Corona Vanquisher Ok? Che sarebbe Distruggiamo il corona Vanquisher vuol dire È come uno che Conquers È come uno che vince Voglio partire un challenge Delle cose che facciamo Ogni singolo giorno Da qui Per i prossimi 30 Per i prossimi 60 giorni Così che siamo tutti noi insieme Della comunità Muscoli e vita E ogni giorno Oltre al programma di allenamento per casa Se lo state seguendo Oltre al cardio Oltre alle cose Che fate normalmente A casa Ci stanno appunto Questi 5-10 punti Che fanno parte della challenge Che noi faremo ogni giorno Ci sono per la dieta Ci sono per l'allenamento Ci sono per l'interessere generale E io pensavo Se voi andate su Instagram Io lo posterò su Instagram Così che facciamo tutti insieme su Instagram Farò delle live Per ognuno di questo punto E in tutte quelle live Sarebbe bellissimo Se ad esempio Avevo pensato per l'allenamento Fare 75 pressioni al giorno 75 addominali E 5 minuti plank al giorno Lo facciamo tutti insieme In live A casa Così che non ci sentiamo Non ci sentiamo soli Non ci sentiamo isolati Che come mi sentivo io magari Qualche giorno fa Quella è la verità Però appunto Guardatemi già adesso Mi sento così tanto meglio Perché non lo so Mi ha ridato questa assenza Di appartenenza E questo boost Di motivazione E devo dire che È da qualche giorno Che non mi sentivo così bene E quindi sì Io spero veramente Che anche tu ti vuoi unire Che riesci a trovare il tempo Una buona giornata Per farlo E quindi se è così Vai su Instagram Perché magari oggi O domani lo annuncio E così che possiamo Parlo tutti insieme Penso che Non lo so Mi è venuta un'idea Penso che sia carino Perché anche Vi devo dire sinceramente Anche con la dieta Mi veniva difficile seguirla Perché è come se Non lo so Avessi perso il ritmo Nel mio senso Che fare Quindi sì Questa è la mia decisione Io spero che Salterete a bordo Anche voi Così che vediamo veramente Questa comunità Quanto è forte E niente ragazzi Qua è arrivato Il diluvio Universale Che vedrete anche Nel prossimo video Stranissimo il tempo qua Non c'è ancora il coronavirus Ma col diluvio Sembra che c'è spazzaglia quello Comunque ragazzi Mi ha tagliato i capelli di semi E dite Ho fatto un buon lavoro Secondo me niente male Per essere la prima volta Un po' cattivo Un po' frate bernardeschi Il bernardesco Che ne so Però dai Detto questo Voglio ringraziare veramente un sacco Un bacione a tutti voi Statemi bene E Ci vediamo su Instagram Dai eh Vi raccomando Se siete arrivati qui qua Siete Il cuore Hashtag Kaizem Nei commenti Hashtag Kaizem Nei commenti Change for the better Miglioramento continuo Dai Sorpasseremo anche questa Questa fase Let's get it No ci vediamo Non domani Martedì Ciao rega Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione!